Il progetto è di fare come in Grecia o almeno qualcosa di simile, bloccare l'avanzata delle sinistre, neutralizzare contestazioni e dissensi, stabilizzare la posizione dell'Italia all'interno dell'alleanza atlantica, spostare in senso autoritario l'asse della politica, magari con un colpo di Stato. Lisbona, Atene, ora Roma viene, scandiscono i militanti di avanguardia nazionale nelle manifestazioni. C'è anche un convegno che lo stabilisce chiaramente. Nel 1965 l'Istituto Luigi Pollio per gli affari strategici, creato dallo Stato Maggiore della Difesa e finanziato dal SIFAR, il Servizio Segreto Militare, tiene un convegno all'Hotel Parco dei Principi, a Roma. Ci sono ufficiali superiori delle Forze Armate, alti magistrati, dirigenti politici, giornalisti come Guido Giannettini e militanti dell'estrema destra come Stefano delle Chiaie e Pino Rauti. C'è anche un personaggio che abbiamo già visto. È un anarchico che si chiama Mario Merlino e fa parte del Circolo 22 Marzo. È lui quello che accusa Pietro Valtreda dopo la strage di Piazza Fontana. Il congresso era un congresso di studi, precisiamo, era un congresso di studi sulla poliedricità della guerra sovversiva o guerra rivoluzionaria che dir si voglia è portata avanti dal comunismo in tutto quanto il mondo. Il comunismo ha cambiato tattica, non attacca più frontalmente le strutture degli stati nel mondo occidentale. Si insinua in queste strutture ma è un perfetto strumento bellico che lavora ogni giorno. Il tema del convegno è il terrore rivoluzionario che il Partito Comunista starebbe attuando in Italia. Come impedire lo slittamento del Paese verso sinistra, anche se ottenuto con metodi democratici come le elezioni? E come difendere le istituzioni dalle infiltrazioni dei comunisti, con tutti i mezzi, costituendo formazioni paramilitari clandestine, impegnandosi in azioni di pressione, in un controterrore che possa rompere i punti di precario equilibrio in modo tale da determinare una diversa costellazione delle forze al potere. È un linguaggio scuro, volutamente oscuro, che storici e magistrati riassumeranno con tre parole molto chiare. Strategia dell'attenzione. Strategia dell'attenzione è una diramazione di un più ampio disegno che la guerra non ortodossa e era l'idea che alla insurrezione comunista, ai disegni rivoluzionari, si dovesse rispondere con mezzi contro-rivoluzionari ignari di ogni regola. Strategia dell'attenzione in Italia ha significato quindi far collassare, cercare di far collassare la democrazia italiana e quindi com'è che si riplasma una democrazia? Si riplasma creando un nuovo panorama, un nuovo panorama attraverso il terrore colpendo innocenti. Nel progetto di difendere lo Stato dall'infiltrazione dei comunisti e da un'eventuale invasione sovietica, le organizzazioni di estrema destra hanno anche alcuni compagni di viaggio. Le organizzazioni paramilitari come Gladio oppure come i nuclei di difesa dello Stato, detti anche legionari. All'inizio della contestazione, 67-68 così più o meno, per motivi che poi discuteremo, vedremo, è arrivata l'ordine, la disposizione di mettere in piedi una organizzazione a carattere però non più Nato ma nazionale e dipendente non dalla Nato ma dallo Stato Maggiore esercito che prevedeva in caso di invasione del territorio nazionale una rete di guerriglia e di controguerriglia. Sono stato giudicato idoneo per coordinare in Verona e provincia un nucleo di 50 persone, di 50 gladiatori. Coinvolti nel progetto di spostare in senso autoritario l'asse della politica italiana ci sono anche i servizi segreti. I nostri innanzitutto, il SID, il Servizio Informazioni della Difesa, diretto dall'amiraglio Eugenio Enche e l'ufficio Affari Riservati, una sorta di servizio segreto civile diretto da Federico Umberto D'Amato. Ci sono anche i servizi segreti americani, la CIA e i servizi della Marina e dell'esercito. Ci sono anche organizzazioni internazionali come l'Aginter Press, una strana agenzia stampa che si trova al primo piano di un palazzo di Lisbona. Una strana agenzia stampa fondata da uno strano personaggio che si chiama Yves Guerin Serac, ex membro delle SS francesi, ufficiale del gruppo terroristico dell'OAS negli anni Sessanta e alla fine di quegli anni in Italia per coordinare operazioni di provocazione, infiltrazione e propaganda. Uno strano personaggio Yves Guerin Serac, di cui si conosce soltanto una fotografia scattata di nascosto in un ristorante dai servizi segreti portoghesi. Yves Guerin Serac, Frank Iverliu, Yves Guiou, Ralf. Ha tanti nomi questo strano personaggio che viene considerato uno dei coordinatori dell'internazionale terroristica nera. Il contesto internazionale in cui avviene la strategia della tensione, in cui prende posto anche la strage di Piazza Fontana, è un contesto internazionale di democrazie scricchiolanti soprattutto nel sud del Mediterraneo. Non dimentichiamo abbiamo ancora una Spagna che è una Spagna autoritaria, franchista, abbiamo un Portogallo che non conosce la democrazia e abbiamo una Grecia che con il golpe dei colonnelli, un golpe in cui sono evidenti le responsabilità di servizi segreti atlantici, ma risulterà anche un rapporto stretto con la destra italiana. Quindi c'è un contesto mediterraneo che è un contesto di democrazia in sofferenza, un contesto che prende posto in una situazione di guerra fredda, di contrapposizione tra i blocchi. È questo il contesto in cui è avvenuta la strage di Piazza Fontana? E cosa c'entrano con tutto questo? Franco Freda, Giovanni Ventura e il loro gruppo.